In vendita il cineteatro Odeon a Canicattin. Si tratta di una struttura progettata agli anni 50 dall'allievo dell'architetto Ernesto Basile. In quell'epoca si trattava uno dei più grandi cineteatri della Sicilia e disponeva di oltre 1200 posti a sedere, che sono stati ora ridotti a 750 per le normative attuali da rispettare. Andiamo all'interno e vi faccio vedere un pochettino di cosa si tratta. Questa è una holle d'ingresso, molto ampia, spaziosa e comoda. Da questa parte c'è il botteghino, una saletta a uso del botteghino. Da questa parte c'è il bar e la saletta per il bar, che in questo momento non possiamo visitare, che è chiusa. Da questa parte ci sono le scale per salire nelle tribune. Vi faccio vedere la platea, molto comoda. Guardate che grande struttura che c'è da questa visuale. Come dicevo, si tratta di oltre 750 posti a sedere, distribuiti fra la platea e la tribuna. La visuale è ottima da qualsiasi posto che c'è in questa platea, ma anche nelle tribune sopra si vede tutto ottimamente. Come dicevo, agli inizi degli anni 50 era uno dei più grandi cineteatri della Sicilia. Guardate com'è bello. Guardate, sopra ci sono le tribune. Ora saliamo pure là sopra per vedere tutto. Come dicevo, è un cineteatro. Questo è lo schermo che viene abbassato e salito per la proiezione dei film. Invece da questa parte vi è il palchetto per gli attori, dove si possono fare le rappresentazioni teatrali. In questo momento ci sono delle amplificazioni, perché settimana entrante vi è un evento. Come vedete, siamo qua nel palco, molto spazioso, quindi gli attori hanno tutto lo spazio a disposizione per fare le rappresentazioni. Sopra ci sono le scene che scendono e salgono in funzione dalle rappresentazioni da fare. A destra e a sinistra ci sono i camerini e gli spogliatoi, che noi in questo momento non visitiamo, perché verrebbe troppo lungo il video. Scendiamo giù e andiamo nella parte di sopra. Qua c'è la pozza per i musicisti e la passerella. Guardate da qua sopra, che spettacolo. Il video non rende bene quello che c'è realmente da vedere. A destra e a sinistra, di qua si va dalle quinte, a destra e a sinistra ci sono i bagni maschili e femminili. Uno è da questa parte e un altro si trova là sotto. Li porto sopra nelle tribune, così avremo una visuale dall'alto della platea e del palco. Questa struttura, oltre al bar, gode anche di una saletta, ristorante. Quindi si potrebbero organizzare degli eventi come battesime, comunioni e volendo anche matrimoni. Qui siamo nelle tribune. Guardate che bella visuale che c'è da questa parte. Qua ci sono i vari palchetti dove in questo momento sono state tolte però le poltrone per ridurre il numero di posti a sedere, per rientrare nelle normative. Guardate com'è bello. La vista e l'audio da qua sopra è veramente spettacolare, bellissima. È di una dimensione, insomma, molto ragguardevole. e poi l'allievo del Basile ha studiato tutto nei minimi dettagli per creare a Canicatì una delle strutture più importanti che ci sono state negli anni 50 in Sicilia. Guardate, il cellulare rimpicciolisce tutto ma vi assicuro che è enorme. C'è un volume, uno spazio incredibile. Guardate, questa struttura è ancora in funzione. Ha le licenze rinnovate fino a tutto il 2029 dotato di impianti antigeni o di riscaldamenti, di gruppo elettrogeno. Quindi ha tutto il necessario. Vedete che si sta abbassando. Quindi quando si vuole proiettare qualche film, vi è un proiettore digitale in 3D. Quindi volendo si può anche utilizzare con gli occhialini ed avrete le visioni più all'avanguardia che ci sono in questo periodo. Questa è una tribuna con una vista spettacolare. Vi faccio vedere qualche altra cosa. Non visiteremo tutte le parti della struttura perché ci sono tanti spazi, ma visiteremo solo qualcosina, se no il video durerebbe più di mezz'ora. Da questa parte c'erano pure delle tribune che sono state tolte per ridurre il numero dei posti per le normative attuali. Guardate che bellezza. Questo posto si potrebbe dedicare benissimo a una compagnia di attori perché il teatro è qualcosa che non morirà mai. Ci sarà sempre, sempre, nei secoli, insomma, la necessità di avere una struttura del genere. Si può utilizzare per effettuare dei saggi. Vediamo se è aperto. Qui ci dovrebbero essere le sale macchine. Purtroppo è stato chiuso. Comunque, da questa parte c'erano i proiettori, i gruppi elettrogeni, l'appartamento per il custode, un ufficio per il manager. Qui siamo nella parte alta delle tribune. Signore, chiunque fosse interessato ad acquistare questa struttura, che ritorna a ripetere, ha le autorizzazioni rinnovate fino al 2029. Quindi è pronto per lavorare. Già settimana entrando, come avete visto, ci ha organizzato un evento. Il prezzo di richiesta è 420 mila euro. Non pagate neppure le poltrone che ci sono state rinnovate da pochi anni. Quindi, fatevi avanti, fissate un appuntamento. Il prezzo è leggermente pure trattabile. Quindi, che dirvi? Contattateci e fissate l'appuntamento. da Antonino Cuschiere per l'Agenzia Immobiliare Veraffare e Tutto. Seguiteci nei nostri profili social. I nostri recapiti telefonici sono il 342-8409-239, che è quello mio personale, che sono Antonino, oppure quello di mio fratello Carmelo, che è il 338-3020-039. Qualsiasi visita o dubbio volete sciogliervi, contattateci. Noi saremo ben lieti di aiutarvi. Ciao, ciao. Ciao.